eccoci per l'assaggio come dicevo prima una grattugiata di parmigiano ci sta e una smacinata di pepe anche se ci ho messo il piccante ci sta cremosissima voglio me la voglio far vedere guardate e ora l'assaggio eh sì fatta col fuoco aiuti sono troppo buoni quel po di sapido con la zucca dolce col pepe peperoncino e una grattatina di formaggio parmigiano troppo buoni fatene anche voi o ditemi nei commenti come la fate se la preparate in un'altra maniera iscrivetevi al mio canale e mettete tanti like se vi è piaciuto e come dico sempre che ve lo dico a fa ciao a tutti ciao a tutti